Era il 9 luglio del 1943 quando Caltanissetta fu colpita dalle bombe delle fortezze aeree degli alleati che preparavano l'invasione dell'isola. Caltanissetta e i comuni della provincia pagavano così il pesante tributo di 751 vittime civili, delle quali 350 nel solo capoluogo, con migliaia di feriti. Episodio che è stato ricordato nel corso dell'incontro sulle memorie cittadine organizzato dall'amministrazione comunale. Ricordo che il rumore assordante di quelle bombe, ricordo esattamente che arrivarono gli aerei dalla parte di San Cataldo ed era una grossa formazione. Io avevo cominciato a contarle 1, 2, 3, arrivai a 6 quando ad un tratto un assordante rumore delle bombe che arrivavano e immediatamente io e i miei familiari raggiungemmo la scala di accesso all'appartamento ritenendo che questo poteva essere un rifugio che ci avrebbe salvato. Non sapevamo che veramente bastava una bombetta e poi praticamente fu tutto un fracasso, rumori continui. Quando c'è stato tutto, dopo una diecina di minuti, un quarto d'ora, ci fu un silenzio veramente di tomba. Poi cominciarono le gride delle persone che correvano, quasi tutte eravamo impazzite. Altro episodio indelebile nella memoria dei nisseni che si è voluto ricordare è stato quello della fondazione della biblioteca Luciano Scarabelli grazie all'impegno di Domenico Marco, primo prefetto della provincia dopo l'unità d'Italia. 150 anni di storia, in verità caduti l'anno scorso, nel 62, ma non è mai troppo tardi. Noi oggi facciamo qui in biblioteca, grazie all'interesse dell'amministrazione, un'opera di ricostruzione storica che consiste in questa. In pratica abbiamo ribadito in tanti modi che il fondatore della biblioteca di Caltanissetta non è Scarabelli, è Domenico Marco, il primo prefetto della città. La società di storia pari che rappresento ha ritenuto opportuno di riprodurre l'immagine di cui si era persa memoria di Domenico Marco questa è la prima cosa. La seconda è importante, la riapertura dopo il restauro della libreria Cappuccina che risale a 1767, che faceva parte della biblioteca del convento dei Cappuccini. Siccome tutti i libri dei Cappuccini sono venuti alla nostra biblioteca, fu incamerata anche la libreria. Noi abbiamo fatto un'operazione storica semplicissima, abbiamo preso, noi come società abbiamo collaborato, è stato il personale della biblioteca, i libri dei Cappuccini, quelli che abbiamo potuto fino ad oggi individuare, li abbiamo rimessi nella libreria del 1667 dei Cappuccini.